Umberto Di Maio, prima intervista da ex allenatore della Sottotitensili, come mai sei dimesso? Per dare comunque una scossa ai ragazzi, dato che c'è la sosta pasquale, in più hanno posticipato la partita con la Cisco, quindi hanno tutto il tempo per adattarsi a Fabrizio, gli faccio un ingrosso bocca al lupo, e comunque per, come ho già detto in precedenza, per dare una scossa ai ragazzi e niente, speriamo che gli vada tutto bene. Quindi sono nascosta, non c'era nessun problema con la dirigenza, con i giocatori? No, assolutamente, i giocatori sono tutti i ragazzi che ho avuto, con la dirigenza c'è un rapporto lì fuori anche del calcio 5, quindi nessun problema. E' già qualche tempo che pensava alle dimissioni? Guarda, ho aspettato appunto questo, come ho detto, la partita con il Tc Parioli, perché se le cose andavano male, e come i risultati comunque sono andati abbastanza male, avevano appunto questa sosta da sfruttare per l'allenatore nuovo. La più grande gioia di Umberto De Maio sulla panchina di Azzurra è stata la vita nel derby play-out due anni fa? Sì, quella anche nell'ambito giovanile, dove i campionati Under 21 ne ho vinti, quindi sono tutte cose positive. Tengo anche a sottolineare che oggi si fa vedere la classifica, sui siamo ultimi, però comunque lascio la squadra che ad oggi se finisce il campionato farebbero lo spareggio col Valencia. Cosa c'è nel futuro di Umberto De Maio? Guarda, per ora mi godo la bambina di otto mesi, poi ho avuto delle proposte, però in base al lavoro devo decidere cosa fare comunque. Presto potrebbe tornare al Palasport, ma ad avversario magari? Per ora non ci penso, in futuro chissà potersi di sì. Grazie a tutti.